Buonasera, vediamo un po' se riusciamo a superare questa afa che c'è qua dentro. Dobbiamo lottare. Il giorno in cui inizia la battaglia è il tema che stiamo trattando ormai da, questa è la terza domenica, Efesini, stiamo da due anni e mezzo su Efesini, vi dicevo domenica scorsa è una lettera che io amo, fino a quel momento che non ho iniziato a studiarla, sì l'avevo letta tante volte, ma quello che sta venendo fuori è davvero una lettera meravigliosa ecclesiologica al 100%. Abbiamo iniziato a parlare del giorno in cui inizia la battaglia, abbiamo detto che la battaglia inizia dal giorno in cui apriamo il cuore al Signore Gesù perché veniamo sottratti dalle grinfie del nostro nemico e passiamo sotto l'autorità divina dove il diavolo poi inizia a farci guerra. E questa sera, anch'io non ho sbagliato questa mattina, di solito c'è il disco, però questa sera vorrei continuare con questa riflessione su Efesini 6 e vi invito a leggere insieme a me i versetti da 10 alla fine, ma ci tratteremo solo su alcuni e vi invito ad alzarvi in piedi. L'Apostolo Paolo alla conclusione della lettera agli Efesini scrive e dice del resto fratelli miei, fortificatevi nel Signore e nella forza della sua potenza, rivestitevi della completa armatura di Dio affinché possiate star saldi contro le insidie del diavolo. Il nostro combattimento infatti non è contro sangue e carne, ma contro i principati, contro le potenze, contro i dominatori di questo mondo di tenebre, contro le forze spirituali della malvagità che sono nei luoghi celesti. Perciò prendete la completa armatura di Dio affinché possiate resistere nel giorno malvagio e restare in piedi dopo aver compiuto tutto il vostro dovere. State dunque saldi, prendete la verità per cintura dei vostri fianchi, rivestitevi della corazza della giustizia, mettete come calzature ai vostri piedi lo zelo dato dal Vangelo della pace, prendete oltre a tutto ciò lo scudo della fede con il quale potrete spegnere tutti i tardi infuocati del maligno. Prendete anche l'elmo della salvezza e la spada dello spirito che è la parola di Dio, pregate in ogni tempo per mezzo dello spirito con ogni preghiera e supplica, vegliate a questo scopo con ogni perseveranza, pregate per tutti i santi e anche per me, affinché mi sia dato di parlare apertamente per far conoscere con franchezza il mistero del Vangelo per il quale sono ambasciatore in catene perché lo annunci francamente come conviene che ne parli. Fin qui la parola, accomodatevi. Abbiamo detto che in questi versi e poi continueremo tutta la lettera fino alla fine, in questi versetti, versetti 10 a 24 troviamo quattro qualità da possedere per la guerra spirituale, per la guerra spirituale di ogni giorno. Abbiamo iniziato con la prima parte, abbiamo detto che per affrontare la guerra spirituale il credente deve essere determinato per la battaglia e abbiamo studiato i versetti 10 e 12, quindi abbiamo visto che nell'essere determinati abbiamo visto cinque accorgimenti, abbiamo visto la nostra risolutezza, la nostra risorsa, il nostro riparo, il nostro rivale e infine abbiamo visto il nostro ring dove combattiamo. Questa sera vedremo la seconda qualità per affrontare la guerra spirituale, il credente deve essere dotato dell'armatura, abbiamo visto che il credente deve essere determinato per la battaglia come seconda qualità, il credente deve essere dotato per l'armatura, versetti 13 a 17. Siamo arrivati all'armatura, sebbene un soldato romano, voi sapete Paolo essendo stato carcerato lì a Roma aveva davanti i soldati romani, ecco perché poi alla fine conclude con questa, sull'armatura. Sebbene un soldato romano indossasse altri elementi essenziali per la guerra, come per esempio mi vengono in mente gli schinieri protettivi che venivano messi sugli stinchi, un po' volgarmente una specie di parastinchi dei calciatori, diciamo così. Paolo però si concentra in questa armatura che cerca di trasmetterci si concentra su sei oggetti indispensabili e gli dice questi oggetti, la cintura, la corazza, i calzari, lo scudo, poi vedremo tutto ad uno ad uno, l'elmo e poi la spada. Poi vedremo anche che Paolo aggiunge un settimo capo non d'abbigliamento che è la preghiera. Dopo aver parlato dell'armatura poi aggiunge pregate e questa è un'altra cosa che cercheremo di sottolineare verso la fine. Quando aggiunge la preghiera lui vuole sottolineare così la completezza di un tale equipaggiamento per la battaglia spirituale. Ma vediamo adesso almeno i primi due, se riusciamo questa sera, di questi sei oggetti indispensabili che caratterizzano l'armatura del credente. Innanzitutto prima di passare agli oggetti indispensabili dobbiamo riconoscere che l'armatura è di Dio. Paolo presenta l'armatura che può sembrare, può revocare l'armatura di un soldato romano di quei tempi che poi abbiamo detto la scorsa volta che oggi farebbero ridere un'armatura del genere, oggi ci sono armi più sofisticate, ma la cosa importante adesso è che noi riconosciamo che l'armatura è di Dio. Infatti il versetto 13 dice perciò prendete la completa armatura di Dio. Questo è importante, molto importante, affinché, se prendete questa armatura di Dio, affinché possiate resistere nel giorno 1 maggio e restare in piedi dopo aver compiuto tutto il vostro dovere. Dovete sapere che nell'Antico Testamento Dio viene descritto come un guerriero. Può sembrare un po' strano, ma è così. Non vado a leggere tanti testi che ci sono che descrivono Yahweh come un guerriero. Ne leggo uno che si trova in Isaia 59, versetto 17, e dice così, egli si è rivestito di giustizia come di una corazza, si è messo in capo l'elmo della salvezza, ha indossato gli abiti della vendetta, si è avvolto di gelosia come di un mantello. Non voglio dilungarmi su questo, ma molto probabilmente Paolo ha visto questo verso di Isaia e ha anche strutturato poi la sua lettera. Però la stessa armatura che il Messia indossa in battaglia è anche il nostro equipaggiamento da battaglia. Cioè quello che ha usato il Messia lo possiamo utilizzare noi allo stesso modo. Ora, non c'è motivo di cedere di un centimetro a Satana, assolutamente. Sebbene, se abbiamo indossato l'armatura completa di Dio, dobbiamo però essere pronti e anche attrezzati. Sapete, noi non indossiamo costumi da bagni, noi non indossiamo i pigiama, non indossiamo abbigliamento da sfilata. Spesso, purtroppo, il nostro vestire lascia desiderare. Questo sì, e dico purtroppo. Però dobbiamo chiederci, durante la nostra vita cristiana, così come mi vesto, si addice a quello che devo fare alla gloria di Dio? Chiediamocelo. Se il nostro vestire si addice a quello che stiamo studiando. Noi siamo chiamati, fratelli, sorelle, chiamate a indossare l'equipaggiamento da battaglia. Da battaglia. E Paolo ribadisce i comandamenti dei versetti che abbiamo visto la scorsa volta, 10 e 11, nel versetto 13. Lo ribadisce e dice perciò prendete la completa armatura di Dio affinché possiate resistere nel giorno malvagio e restare in piedi dopo aver compiuto tutto il vostro dovere. Notate la ripetizione dell'Apostolo Paolo. Nel versetto 18 dice fortificatevi. Nel versetto 13 resistete, restate in piedi e poi compiuto tutto il vostro dovere. Quindi per quello che esce fuori da quello che stiamo studiando da Efesini, il minimo che possiamo fare noi credenti, figli di Dio, è resistere e restare in piedi. E poi il versetto 13 dice che viviamo nel giorno malvagio. Paolo aveva già detto in Efesini 5,16 che i giorni sono malvagi. In quel tempo i giorni erano malvagi, come sono oggi? Sono super malvagi. E l'imperativo continua ad essere lo stesso, resistere. Resistere a questi giorni malvagi, resistere a questo male e dopo aver fatto tutto il possibile dobbiamo ancora resistere. Resistere e resistere. Quindi non dobbiamo cedere terreno al nostro nemico. E inoltre in questo versetto 13 notiamo che c'è sia un comando che una promessa. Il comando è chiaro, perciò prendete la completa armatura di Dio. La promessa è che se indosseremo davvero l'armatura completa di Dio resisteremo e saremo vittoriosi. quindi c'è un comando, c'è anche una promessa. Quello che andremo a studiare è una vera armatura, una vera armatura per il credente. Cioè questa armatura è stata forgiata sulle incudini del cielo. Non è un'armatura che si può vedere, no a San Marino ci sono le armature che sono lì esposte, no? Matteo e Giuditta. Questa armatura, vera armatura per il credente, è un'armatura forgiata sulle incudini del cielo. Non è un'armatura umana, come possiamo intenderla noi oggi. Non è un'armatura terrena. Questa armatura forgiata sulle incudini del cielo ci proteggerà nella guerra spirituale solo se la indosseremo. Seconda cosa, quindi primo riconoscere l'armatura di Dio. Secondo individuare l'armatura che Dio ha provveduto. Quindi dai versetti 13 a 17 vedremo l'armatura che Dio ha provveduto e ci dà protezione in sei ambiti. Quindi se prendete appunti, questa armatura che Dio provvede, che è stata forgiata sulle incudini del cielo, ci protegge su sei ambiti della nostra vita. Ci dà protezione innanzitutto per ciò che seminiamo, protezione per ciò che seminiamo. Guardate, il versetto 14 parla della cintura della verità. Quest'armatura forgiata nel cielo, sull'incudini del cielo, ci dà protezione per ciò che seminiamo. Quando un soldato stringeva la cintura forte, vuol dire che era pronto per la battaglia. Questo stringere la cintura, questo prendere la cintura ai fianchi era proprio pronto per il combattimento. La cintura di un soldato in qualche modo teneva tutto, tutto. Quindi senza la cintura sarebbe stato impotente a lottare in battaglia. E Paolo dice, questo è davvero importante, Paolo dice che la verità svolge questa funzione cruciale nella guerra spirituale. La verità. La verità, di cui sta parlando Paolo, mantiene diciamo l'armatura spirituale al suo posto e la protegge da coinvolgimenti mortali. È importante quello che stiamo vedendo in queste domeniche. Ma a quale verità si riferisce Paolo? Gli antichi commentatori pensavano che questa fosse l'eterna verità biblica rivelata nelle scritture. E io credo che abbiano avuto pienamente ragione. Gesù ha proclamato a coloro che erano e sono prigionieri del falso insegnamento, ha proclamato questo. Conoscerete la verità e la verità vi farà liberi. Più tardi, sempre Gesù disse nel capitolo 17, santificheli nella tua verità e poi dice la tua parola è verità. E Paolo si riferisce in Efesini 4.21 alla verità che è in Gesù. Quindi c'è una verità oggettiva, c'è una verità spirituale in Gesù e nelle scritture. E quindi c'è la verità su Dio, c'è la verità su noi stessi, c'è la verità sulla storia, c'è la verità sul futuro. Senza la verità di cui sta parlando Paolo, non avremo nessuna possibilità nelle battaglie spirituali che ci si presenteranno davanti. Nessuna possibilità. E fra poco scopriremo perché. E dico di più a questo riguardo, se non ci si aggrappa strettamente alla verità della scrittura, le armi della nostra guerra risulterebbero inefficaci, risulterebbero fallimentari. Coloro che nella storia biblica e non solo biblica, nella storia della Chiesa, coloro che sono rimasti saldi come grandi guerrieri per Cristo, sono stati uomini e donne che erano donne e uomini della parola, della verità. E quindi questi uomini e queste donne nella storia della Chiesa erano pieni della verità, questa verità eterna della scrittura. Perché cielo e terra passeranno, ma le mie parole, dice Gesù, non passeranno mai. Quindi il minimo che possiamo fare è restare in piedi. Possiamo schierarci dalla parte di Dio, perché è la parte migliore che noi, come Maria che si è seduta ai piedi di Gesù, no? E questa era la parte migliore che ha scelto Maria. E noi possiamo schierarci dalla parte di Dio, come fece Martino Lutero per citare un uomo di Dio che Dio ha usato come strumento nelle sue mani. Martino Lutero quando annunciò che sarebbe andato al fatidico confronto tra Roma a Worms, no? Si confrontava il Vaticano con lì a Worms e di fronte a tutto il potere della terra, di fronte a tutto il potere dell'inferno che possedeva la religione, disse, era il 18 aprile del 1521, disse queste parole ormai sono passate nella storia, questo non posso fare altro, Dio mi aiuti. E la Chiesa Cattolica stava cercando di fargli rimangiare tutto quello che aveva appeso sulla porta lì a Wittenberg, 95 tesi, tutte le verità bibliche. E lui dice questa frase, non ha fatto un passo indietro di nessun centimetro, disse, questo non posso fare altro, Dio mi aiuti. Difficilmente si può immaginare un soldato più grande di Martino Lutero nella storia della Chiesa, perché la sua determinazione è stata un punto di svolta nel corso della storia umana, nel corso anche della storia della Chiesa. E non è un caso che Martir Lutero avesse imparato, fate attenzione, ecco perché è stato scritto ogni anno dai piani di lettura, non è un caso che Martir Lutero avesse imparato a memoria, a memoria praticamente tutta la Bibbia, nel suo caso il latino. Comunque era tutta la Bibbia. Più tardi, nel XVII secolo, c'è stato un altro soldato supremo che fu John Wesley. Vi invito a studiare questi personaggi che la storia della Chiesa ha messo in rilievo. John Wesley si oppose alla classe dirigente religiosa con un tale potere evangelistico da cambiare il corso della società inglese e anche a mutare la storia. John Wesley, un uomo di Dio. Anche in questo caso Wesley aveva memorizzato, guardate, la maggior parte del Nuovo Testamento greco. I guerrieri cristiani, quelli che indossano l'armatura, i guerrieri cristiani efficaci sono legati, sono incatenati alla verità di Dio. Avendo questa verità oggettiva, coloro che vincono nella guerra spirituale faranno un ulteriore passo. Cosa fanno quelli che vincono la guerra spirituale? Sapete cosa fanno? Vivono la verità. Non solo la conoscono a memoria, la verità, perché studiare la Bibbia e imparare a memoria i versetti e conoscere la verità, ma non solo. Questi uomini che combattono la guerra spirituale vivono la verità. Non solo la conoscono, ma la vivono questa verità. Non possiamo essere vittoriosi nella guerra spirituale se le nostre vite non sono strettamente legate alla verità. Noi non possiamo assolutamente essere vittoriosi nella guerra spirituale se le nostre vite non sono strettamente legate a uno stile di vita onesto e divulgatore di verità. Il punto di Paolo qui è che il carattere sincero insieme alla conoscenza della verità tiene uniti in una lotta. Conoscenza, verità. Sincero e conoscenza. Tiene insieme nella lotta. Ora, sebbene la sincerità sia necessaria per la vittoria, non è facile per la razza umana la sincerità. Oggi viviamo, spero che nessuno si offenda, ma viviamo in una società, in una cultura infettata dall'AIDS morale. L'AIDS morale. L'AIDS morale. Dove ormai in questa società le parole perdono ogni significato. Oppure le parole vengono manipolate per oscurare il significato. Con questa cultura infettata moralmente, le tasse, in questa cultura che viviamo così infettata moralmente, diventano miglioramenti nella valutazione delle entrate. Ad esempio, la perversione diventa gay. L'aborto dei bambini non ancora nati è diventata libertà di scelta. Il maxismo nella chiesa è chiamato teologia della liberazione. Sono tutte belle parole. A dire il vero, anche in epoca nazista, la soluzione finale suonava bene a quel tempo. La cosa triste, vedete, la cosa che più mi rattrista è che tutti annuiscono senza fare domande. Quando le parole perdono il loro significato, è quasi impossibile che la parola di Dio venga accolta. Non funzionano le parole. Per esempio, se il peccato, il pentimento, peccato e pentimento non significano nulla, allora la grazia di Dio è rilevante. Se il peccato non ha più significato che ha, che deve avere, la grazia non è significativa. La nostra predicazione, se le parole sono insignificanti, cade nel vuoto e questa sordità morale porta al disastro. La società di oggi si trova qui, nel disastro morale. La cosa che è più mi rattrista però è che molti che affermano di essere luce nel Signore, come dice Fessini 5,8, molti di quelli che si definiscono tali credenti, trafficano nella menzogna inconscia e alcune volte anche consapevole. Infatti Paolo ripete, sempre nel capitolo 4 l'abbiamo studiato, versetto 25, bandite la menzogna, ognuno dica la verità al suo prossimo. Perché è facile che i credenti poi trafficano nella menzogna inconscia e anche consapevole. Quante bugie sfacciate. Tanti cosiddetti credenti mi hanno detto e ancora dicono. Cosa succede quando si vive con questo stile di vita? Il risultato, se lo stile di vita non è nella verità, non abbiamo questa cintura della verità, lo stile di vita comporta come risultato l'impotenza spirituale. I credenti sono impotenti, non si riproducono. È una bella cosa? Non è bella? Cioè pensate, quelli seduti con Cristo nei luoghi celesti sono dominati dal diavolo. In pratica c'è poco, davvero poco che si possa fare per i bugiardi se non pregare per loro. Io spero che nessuno qui sia un bugiardo o una bugiarda. Per coloro che camminano nella verità invece è vero il contrario. La loro armatura è stretta sia dalla verità oggettiva su Dio, sia dal suo effetto soggettivo nella loro vita. Quindi la verità li arma, quando un credente è sincero e si arma di verità, la verità li arma di una coscienza pulita che permette loro di affrontare senza battere i cigli il nemico. Non hanno paura. E Paolo disse a Timotio a questo proposito nella sua prima lettera, capitolo 1, versetto 18 e 19, dice perché tu combatta in virtù di esse la buona battaglia conservando la fede e una buona coscienza. Quando sarai pieno della verità di Dio e la vivrai, avrai una buona coscienza e grazie a questo potrai affrontare qualsiasi cosa. E quindi qui devo farvi una domanda che dovete rispondere nel vostro cuore, in coscienza e in verità. Come va la tua battaglia spirituale? Noi dobbiamo sempre, non è che veniamo in chiesa solo perché è abitudine, la domenica veniamo in chiesa per abitudine. Noi quando veniamo in chiesa è come se andassimo a fare un check-up alla macchina. Un check-up alla macchina elettronico, il credente viene in chiesa per fare un check-up spirituale, per confrontarsi con la parola che è verità. Come va la tua battaglia spirituale? Hai individuato che sei in battaglia? Se hai problemi, forse può darsi che tu abbia bisogno di stringere la cintura della verità o magari hai bisogno di rivestirti di verità. Dobbiamo riempirci della verità della parola di Dio e possiamo sottometterci consapevolmente ad essa, così saremo istintivamente veritieri. Quindi dobbiamo riempirci di questa verità. Però per riempirci dobbiamo decidere, dobbiamo decidere di essere persone sincere, dobbiamo decidere di essere persone oneste. Ad esempio, io intenzionalmente voglio essere onesto, io devo decidere di essere onesto oppure di essere disonesto, io decido intenzionalmente. Ad esempio, i genitori, voi genitori che siete in questa sala o quelli che ci seguono da casa, voi genitori avete una responsabilità enorme di condurre i vostri figli nella verità. Ad esempio, cercate di abituare costantemente i vostri figli a dire la verità. Come? Se per esempio uno dei figli dice che è accaduta una cosa ad una finestra e mentre la racconta dicono che è successa l'altra finestra. Allora in quel caso, tu che sei il genitore che sai qual è la verità, non puoi lasciarti sfuggire questo dettaglio, ma lo devi correggere subito. Perché se non si sa mai dove finirà la deviazione poi della verità. E noi abbiamo in mano le redini per guidare la famiglia nella verità. Spesso è più per negligenza nei confronti della verità che per una menzogna intenzionale. Il mondo si trova così con tanta falsità proprio per questo motivo, per negligenza. Le menzogne non vengono mai corrette. Quindi una vita sincera, una vita che viene condotta nella verità non è mai un incidente e non è mai per caso, ma centra l'intenzionalità della persona. Quindi questa sera voi potete scegliere se è uomini o donne di verità o no. Non è un caso che una persona vive nella verità. Perciò carissimi, come stiamo vedendo, la verità è vitale, è importante e dobbiamo essere sicuri che il seme che seminiamo, quel seme che seminiamo sia la verità di Dio. Io spesso sento dire il Signore mi ha detto, mi ha detto. Addirittura spesso quasi per trasgredire la parola il Signore dice delle cose che contraddice la parola, figuriamoci. Tipo mi ha detto che il mio marito non è credente, ma il Signore me l'ha detto. Oppure mi devo trasferire, oppure cambiare lavoro. Il Signore mi ha detto. in questo modo, in questo modo di fare, non si comunica la verità. Assolutamente. Cioè noi esprimiamo semplicemente le nostre opinioni, addirittura direi che in questo il Signore mi ha detto che esprimiamo i nostri desideri. O peggio ancora, si travisa la verità a causa della nostra, diciamo così, incapacità di comprendere la verità. Oppure quante volte abbiamo sentito predicatori benintenzionati a proclamare insegnamenti errati con tutto il cuore? Io tante volte. Tali uomini cercano di persuadere le persone a fare questo o a sperimentare quell'altra cosa, ma insegnano l'errore. Poi, chiaramente, se si va sul web, se ne trovano di falsi predicatori a quanto se ne vogliono. Perciò, per questo motivo, i predicatori e gli insegnanti della Bibbia hanno bisogno di prendere la verità per cintura dei loro fianchi. Come ci sta dicendo Paolo? Cioè, i predicatori, gli insegnanti, i credenti devono padroneggiare, in particolare i predicatori, quello che sono i principi dell'ermeneutica. Devono padroneggiare la parola, studiare la parola e la scrittura in profondità, non un'approssimazione, come spesso si vede dietro i pulpiti. Perché dico questo? Perché un predicatore, un insegnante della scrittura deve padroneggiare per conoscere la mente del Signore, la scrittura. Quindi per essere pieni dello spirito e di verità. Altrimenti potrebbero insegnare cose che sono verità di ma non sono veramente verità di Dio. Cioè fanno passare delle verità che non sono verità, cioè fanno passare la menzogna per verità di Dio. Perciò dobbiamo stare tutti attenti a ciò che seminiamo. Perché quello che è nato dalla carne, dice Gesù, è carne. Vedete, adesso lo sto imparando da diverso tempo. Diciamo che quando io ho accettato Cristo nella mia vita, subito mi sono messo a predicare il Vangelo. Ancora non conoscevo tante cose della verità. E subito ho scoperto la battaglia spirituale. Sapete, da nessuna parte Satana è più attivo di dove seminiamo. Tu stai predicando il Vangelo a un amico o un'amica, lì Satana si mette subito in attivo. Non è passivo. Non c'è parte dove lui non sia più attivo che nella semina del credente. Ma ora non ha tanto da fare perché i credenti ora, nel terzo millennio, non seminano più. Ecco perché la verità è il primo pezzo dell'armatura che dobbiamo indossare. Il diavolo è il padre della menzogna. L'inganno è il suo mestiere e lo fa molto bene. Lui vuole che seminiamo errori ricoperti di verità. Questo è il problema. Quindi dobbiamo essere assolutamente sicuri davanti a Dio che indossiamo la verità, tutta la verità, nient'altro che la verità. Non dobbiamo predicare opinioni. Dobbiamo predicare la verità di Dio. Dobbiamo seminare la sua verità. La sincerità, vedete, la sincerità non è sufficiente. Dobbiamo anche avere ragione e la ragione ce la dà la verità. State dunque saldi, prendete la verità per cintura dei vostri fianchi. Amen? Seconda, l'armatura che Dio ha provveduto ci dà protezione per ciò che seminiamo. Secondo, ci dà protezione per ciò che mostriamo. Per ciò che mostriamo. Guardate il versetto 14 dice, e parla qui della corazza della giustizia. Dopo la cintura c'è la corazza. State dunque saldi, rivestitevi della corazza della giustizia. La corazza del soldato romano proteggeva a quel tempo cosa? Gli organi vitali. Era messa qua. Proteggeva gli organi vitali, in particolare i polmoni e il cuore. La sua funzione era quella di respingere quelli che erano i colpi mortali. Perché a quel tempo quelle erano le armi. Da che cosa? No, la corazza respingeva quei colpi mortali da quella che era la spada corta popolare che si conosceva. Però la corazza proteggeva. Oppure dalle frecce che lanciavano i nemici, che potrebbero essere anche frecce infuocate, no? Eccetera. Quindi la corazza proteggeva così gli organi vitali, ma soprattutto il cuore. Proteggeva il cuore. Questo è ciò che fa la giustizia. Questo è quello che fa la giustizia. Proverbi 4.23 dice, ci esorta a proteggere i nostri cuori e dice, custodisci il tuo cuore più di ogni altra cosa, poiché da esso provengono le sorgenti della vita. Matteo 15.18-19 dice, ma ciò che esce dalla bocca viene dal cuore. Ed è quello che contamina l'uomo. Poiché dal cuore vengono pensieri malvagi, omicidi, adulteri, fornicazioni, furti, false testimonianze, diffamazione. Satana cerca di corrompere i cuori dei credenti affinché manifestino brutte passioni invece dell'amore di Cristo. Ci riesce? Sì, ci riesce. Bene? Non bene. Molto bene. Molto bene. La giustizia deve essere la custode dei nostri cuori. E qualcuno potrebbe chiedere, Giovanni, come faccio ad ottenere questa giustizia? La corazza della giustizia è la giustizia di Dio, attenzione, donata gratuitamente a coloro che credono veramente in Gesù Cristo. Come ottenere questa giustizia? Come ottenere questa corazza? Credendo veramente, ecco aggiungo veramente in Gesù Cristo, non è qualcosa che generiamo da soli, la corazza della giustizia. Isaia dice che tutta la nostra giustizia è come un abito sporco. Cioè la nostra giustizia umana è sporca, è lurida. Quindi se abbiamo un abito sporco, forma una corazza sudicia, forma una corazza inutile. E Paolo dice ai Romani, proprio questo, non c'è nessuno che pratica la bontà, non c'è nessuno che pratica la giustizia. No, neppure uno. Ma esiste una giustizia da parte di Dio. La parola greca tradotta giustizia in Efesini 6.14 ricorre 92 volte nel Nuovo Testamento. Pensate, questa stessa sola parola greca ricorre ben 30 volte nella lettera ai Romani. Il primo termine che usa qui Paolo per giustizia nelle lettere ai Romani è un termine istruttivo. I Romani, per esempio, una lettera che forse un giorno studieremo, ci dice che non si vergognava del Vangelo di Cristo, Paolo, perché, versetto 17 del capitolo 1, poiché in esso la giustizia di Dio è rivelata. Avete vergogna quando dovete predicare il Vangelo? Ancora non avete questa corazza della giustizia? Perché la corazza della giustizia ci ripara, ci protegge nel predicare il Vangelo. E Paolo dice che non si vergognava del Vangelo di Cristo perché in esso la giustizia di Dio è rivelata. Cioè il tema dei Romani è proprio la giustizia. E Paolo qui parla della giustizia rivelata, più avanti parla della giustizia richiesta, parla della giustizia ricevuta, parla della giustizia riprodotta. Insomma, il tema delle lettere Romani è appunto un Dio giusto, giusto. Fa sempre ciò che è giusto Dio. Fa quello che fa perché è quello che è. È giusto. Fa ciò che è giusto perché è impossibile, ripeto, è impossibile per lui fare qualcosa di sbagliato. Non può commettere errori. Non è influenzato dalla paura, non è influenzato dal favore. È giusto. La sua giustizia è perfetta, unica. Quindi la corazza della giustizia viene ricevuta e indossata attraverso la fede mentre in Dio ci dà la sua giustizia. Io credo, mi dà la fede, mi dà la giustizia e la indosso. Ci riveste, dice la scrittura, attraverso suo figlio Gesù Cristo. Infatti in Seconda Corinzi, leggo questo verso molto bello, Seconda Corinzi 5.21 dice, colui che non ha conosciuto peccato, egli lo ha fatto diventare peccato per noi affinché noi, attenzione, diventassimo giustizia di Dio in lui. Cioè grazie all'opera di Cristo sulla croce noi che siamo diventati giusti. È ciò che i teologi chiamano giustizia imputata. Se non hai questa giustizia, se non avete questa giustizia, niente potrà salvarvi. Siete condannati. Se ce l'hai, sei salvo per l'eternità. Quando ottieni questa giustizia da Dio, inizi a sviluppare e a manifestare un carattere retto. Inizi a vivere rettamente una vita devota, una vita santa. Quindi inizi a vivere una vita equipaggiata così, in modo tale che non è soltanto sicura nella giustizia di Dio, ma è anche piena di potenza. Quindi se è coperto da questa corazza di giustizia, c'è anche potenza nella vita del credente. E una vita vissuta in questo modo sarà una vita stupefacente. E vi devo dire questo, che non serve, veramente non serve parlare della fede in Gesù. Se hai questa vita, se hai questa corazza di giustizia, non serve parlare di Gesù, ma sarai lo stesso identificato, sarai lo stesso associato a un uomo e una donna di fede. Senza parlare. Il canto dei giusti è questo, secondo Corinthians 2,15. Guardate cosa dice Paolo. Noi infatti davanti a Dio, noi siamo infatti davanti a Dio il profumo di Cristo fra quelli che sono sulla via della salvezza e fra quelli che sono sulla via della perdizione. Per questi un odore di morte che conduce a morte. Per quelli un odore di vita che conduce a vita. e chi è sufficiente a queste cose? Perché non appropriarsi adesso dell'armatura di Dio? Io dico, Signore, ma è possibile? Devo studiare così tanto? E poi i credenti già lunedì si dimenticano tutto quello che viene detto dopo una settimana di studio. E io voglio sfidarvi, fratelli e sorelle, anche a voi che state da casa. Perché non appropriarsi adesso dell'armatura di Dio? L'armatura di Dio, non quella che ci siamo costruiti a noi, in un modo artigianale, arranciato. L'armatura di Dio. E per appropriarsene di questa armatura, devi rinunciare alle tue abitudini. Devi dipendere non più dai tuoi stracci sporchi, dagli abiti sporchi. Rinuncia all'ipocrisia. Rinuncia anche alle tue forze. Rinuncia alla fiducia in te stesso, in te stessa. Rinuncia. E mentre rinunci, l'Apostolo dice, rivestiti dell'armatura di Dio. Poiché l'armatura di Dio è la sua armatura. Poiché la sua giustizia custodirà il tuo cuore con la sua stessa efficacia della corazza più freggiata che ci possa essere. Poiché con la sua giustizia, quando c'è la sua giustizia arriva una vita giusta e la società anela vedere uomini, donne giuste. La sua giustizia arriva, con la sua giustizia arriva una vita giusta, una vita meravigliosa, che poi è un'arma offensiva nelle mani di Cristo. Un credente consacrato, una credente consacrata, una vita giusta diventa un'arma offensiva nelle mani di Gesù verso il nemico. Sapete qual è la genialità del Vangelo? Ci stavo pensando. Che Dio non ci chiede di imitare la sua giustizia, perché nessuno realmente, nessun essere umano può farlo. Nessuno può imitare la giustizia di Dio, assolutamente. Ma la genialità sta proprio qui. Dio ci dona la sua natura giusta mediante la regenerazione che Cristo ha compiuto, morendo in croce. Non ci dice imita la mia giustizia, ma ce la dà gratuitamente. Ci dà il suo santo spirito affinché viva dentro di noi e riproduca la giustizia di Cristo in noi e attraverso di noi. È l'opera di Cristo che ci rigenera e ci dà la giustizia di Dio. I cristiani devono mostrare la giustizia di Dio al mondo. Il mondo aspetta, il mondo aspetta di vedere uomini e donne comportarsi come Gesù. Non solo parlare, ma comportarsi come Gesù. Satana attacca il cuore, quindi abbiamo bisogno di questa corazza. Satana, voi sapete quando c'è quel cerchio che bisogna prendere il centro, non con le freccette? Satana ha quel centro, il nostro cuore e lui cerca di, con i suoi dardi infuocati, di beccare il nostro cuore. Attacca il nostro cuore. Per questo abbiamo bisogno di questa corazza, perché la giustizia di Cristo è un'armatura gloriosa da indossare in un mondo di peccato. Quando le persone ci guardano, ciò che dovrebbe attirare innanzitutto la loro attenzione non è la nostra bravura nel fare le cose. È la gloria splendente della giustizia di Cristo nella nostra vita. Satana, sapete, ha già assalito la giustizia di Cristo. Lo ha fatto con tutte le sue risorse che aveva a disposizione e l'ha trovata impenetrabile. Impenetrabile. Gesù aveva passato 40 giorni e 40 notti nel digiuno e Satana poi, adesso lo colpisco io nel cuore. Lui ci ha provato, ha trovato la giustizia di Cristo impenetrabile. E questa giustizia di cui parla Paolo proteggerà i nostri cuori, proteggerà le sorgenti più profonde del nostro essere da tutta l'ingiustizia così evidente di questo mondo decaduto. Questo farà la giustizia di Dio. E noi, figli di Dio, siamo invitati a rivestire le virtù del nostro Messia. Ora, non si tratta della giustizia imputata attribuita, questa l'abbiamo detto, quella che abbiamo davanti a Dio in Cristo. Non dobbiamo mai indossare quella giustizia perché Cristo l'ha data ai credenti in un modo permanente alla giustizia imputata. Ma qui Paolo sta parlando non di quella giustizia che si riceve in Cristo nel momento in cui crediamo, ma la giustizia di cui parla Paolo sempre riferisce alla giustizia pratica, cioè al vivere giusto, come dice Efesini 4,24, a rivestire l'uomo nuovo che è creato a immagine di Dio nella giustizia, nella santità, che procedono dalla verità. E poi il versetto 9 del capitolo 5 dice comportatevi come figli di luce, poiché il frutto della luce consiste in tutto ciò che è bontà, giustizia e verità. Quindi non è una giustizia imputata che si riceve nel giorno in cui crediamo veramente, ma è una giustizia pratica. E per concludere questa sera, la corazza della giustizia. Noi siamo chiamati a rivestire quelle qualità giuste associate alla tua nuova vita in Cristo. Siamo chiamati a rivestire queste qualità, le stesse qualità giuste riflesse nella vita di Gesù. Noi siamo chiamati, fratelli, a indossare la corazza della giustizia in modo da non cedere di un centimetro a Satana nelle aree di impurità, lussuria, avidità o ingiustizia. Perciò realizza chi sei in Cristo veramente. Appropriate di questi primi due elementi, la cintura della verità, la corazza della giustizia e vivi questa nuova identità vivendo in un modo retto. Dio vi benedica. Grazie. 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 Grazie.